Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game, bentornati in un episodio in cui stavo per cadere dalla sedia, tenendo in mano la sedia, cioè ho alzato la sedia e mi sono dato un colpo, stavo per cadere, vabbè. Allora, siamo qua su F1 Rise of Stars, è iniziato un nuovo anno, oggi gareggiamo con Ruby Power, ah ecco perché hanno i capelli simili come colore ma forme diverse. Bonus casuale, allora siamo qua in fondo, piste pazze fatte, patate bollente, patata bollente, Italia Abu Dhabi, Belgio, anche se la patata proviene dall'America, ricordo bene che sia la patata d'oggi o la patata americana, patata bollente, al contrario il pilota in prima posizione, hai controlli invertiti, aiuto, aiuto, non so cosa sta per succedere qua. E' vero, sono invertiti! E quando mi sorpassano non sono più invertiti! Cos'è successo? Ha rimbalzato l'auto! Non so più quali controlli usare! No, 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 la chiave è mia, la chiave deve essere mia! L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa! Eh, sono tutti cesi! Qualcuno mi ha preso la chiave! Qualcuno è riuscito a prendermi la chiave! Ariae, Maria, ariae, tira la chiave! Ariae, 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 diceva, benigno, il benigno italiano nazionale. Ok! Uffa, non so mai da che parli e commenti usare qua. Cioè, in sostanza in questo tracciato conviene arrivare secondo in questa gara. tra l'altro non è noioso questo titolo però se si va in retromarci comandi sono giusti non ho capito se mi avessero già sul passato quello che so è che è difficile guidare così però non hanno invertito l'accelerazione e il freno ma c'è un abito che stava ridendo in questo modo sono primo ecco perché non mi rispondono i comandi e decimo di nuovo undicesimo dodicesimo la chiave non penso proprio che ci sarà c'è? no non c'è è stata pressa no non ho potuto evitare tanto vale ora che vado qua ok ai 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 peccato che la la macchina non si ripara è vero che non volevo arrivare speravo di arrivare secondo a causa di ah però dai sono quinto quarto terzo no se riuscissi no all'ultimo sono arrivato terzo no terzo mi hanno sorpassato in due sulla linea del traguardo e stavo riuscendo anche a tenere la macchina dritta prova a schivarlo no non è andata come speravo ma con tra il figlio in prima posizione contro l'invertibile e quella con le porte colorate come siamo a Abu Dhabi ma non si sono andati i vertili questi qua e si va a tenere a vedere a vedere i colori adesso LT per fare retromarcia cioè sono state imbattite anche acceleratore e retromarcia che nooo ma non ho capito in questa fase sono invertiti i comandi di tutti i piloti all'improvviso perché anche se non sono primo no devo prendere il giaro che vale 500 punti aia ok preso il giallo ma non c'entra ne sono passato al rosso aia aia Sì, 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 sì. come on ah 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 all right come on come on qua non ci sono bandierine colorate ah 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 no ho vinto cosa è successo? che volevo provare a usare il gamepad al contrario ma non è stato possibile anche perché non sapevo come fare per l'accelerazione sono arrivato quinto sono sul podio in terza posizione a metà strada dal primo cioè dovrei sperare che il primo facesse zero punti nella prossima gara per avere una chance di vittoria quindi ancora una volta eh mi resta vicino un gruppo di testa beeello ah 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 felipe massa oh ah la chiave è di qua la chiave è di qua ma dov'è la chiave? la chiave non rindracciata e intanto quelli sono lontanissimi da me io sono decimo la chiave è la chiave è la chiave è la chiave è finita la chiave è finita la chiave gara. Yes perché? Quarto. Yes significa che sono ancora sul podio. Sì, terzo. Era contenta per questo, perché comunque sono sul podio. Guardate, guardate. Però adesso tocca a voi, perché comunque voi avete fatto di meglio. Diciamo che le sfide di questa puntata erano pensate apposta per non vincere. Si può vincere, ma sono difficili. L'ultima poi è la più difficile, perché se è già difficile con i comandi standard, non si è abituati a guidare al contrario. Ma cosa hanno fatto gli sviluppatori alla Codemaster con questo videogioco? E' in cui mi rendono in giro una parodia della Formula 1 completa. Allora, io faccio finire l'episodio qui. Ci vedremo la prossima volta, credo due episodi, forse finirà, non so, due o tre episodi, credo che poi la serie finirà. Lo scopriremo presto. Ciao a tutti.